Simona Ventura, celebre presentatrice e conduttrice radiofonica italiana, è nata il primo aprile 1965 a Ventivoglio, in provincia di Bologna, Italia. Nel corso della sua carriera, ha conquistato una notevole fama nel panorama televisivo italiano, distinguendosi per la sua partecipazione in una vasta gamma di programmi televisivi, spaziando dai talk show alla conduzione di reality show. Prima di continuare con questo nuovo video, ci teniamo a ricordarvi di dare un piccolo supporto al canale, semplicemente cliccando sul tasto iscriviti e lasciando un mi piace a questo video se vi è piaciuto, grazie per il vostro supporto. Uno dei momenti più significativi della sua carriera è stato il ruolo di conduttrice nel popolare reality show, Grande Fratello, la versione italiana di, Big Brother, conducendo diverse edizioni e contribuendo a renderlo uno dei reality show più seguiti in Italia. Oltre al mondo della televisione, Simona Ventura ha lasciato il segno anche in ambito radiofonico e ha mostrato un impegno costante in progetti di beneficenza. La sua carriera nel mondo dell'intrattenimento è stata variegata e ha mantenuto una presenza significativa nei media italiani. Recentemente, la sua famiglia è stata colpita da una tragica perdita, Franca Ogliaro, legata a lei da una profonda amicizia fin dalla giovinezza, che ha lasciato un vuoto indelebile, portando un profondo dolore, come testimoniato dalla condivisione di Simona sui social media. Prima di continuare con questo nuovo video, ci teniamo a ricordarvi di dare un piccolo supporto al canale, semplicemente cliccando sul tasto iscriviti e lasciando un mi piace a questo video se vi è piaciuto, grazie per il vostro supporto.